Tutti lo vogliono e a giugno si scatenerà una vera e propria asta per aggiudicarselo. Paolo Dybala in vetrina dopo la rottura mediatica con Maurizio Zamparini. In Premier League Arsenal, City, Chelsea e Liverpool potrebbero concorrere per il talento rosanero e poi come sempre è immancabile il Paris Saint-Germain che avrebbe tra l'altro una corsia preferenziale con il club rosanero. Ma non solo, perché anche in Spagna Dybala fa battere cuori, piace infatti al Valencia che però non vorrebbe sborsare la cifra richiesta dal Palermo, ovvero 40 milioni di euro. Il Palermo chiede tanto, ma visto che Dybala non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2016 potrebbe anche subire un colpo basso perché tanti club chiederebbero uno sconto visto che dopo un anno il calciatore andrebbe via a parametro zero. Insomma sarebbe una perdita enorme per il club rosanero che Dybala lo ha pagato più di 12 milioni di euro. Bacini al lavoro, ma al momento non ci sono novità positive per la società del Palermo che paga anche gli errori delle vecchie gestioni. Abbiamo ricevuto tante offerte da diversi club europei. Lui ha detto Miciche contro l'Inter c'erano osservatori provenienti da molte squadre che militano in Premier League. Andrà via, ma non so dove, così come può darsi che rimanga per rinforzare il Palermo. E me lo auguro.